Ciao Stelline, bentornati e benvenuti sul nostro canale. Oggi io e Blair apriremo il regalo prima dell'episodio. Uh, ce ne sono tanti! Oh, è di Spongy Bob! 3, 2, 1... Oh, ma era già uscito un po' di tempo fa. Sì, infatti. Ah no, è versione natalizio, ora ha più senso. Provatelo. Ecco fatto, tada! Mi piace? Inizia l'episodio, buona visione! Oh, ecco, adesso mi cacceranno di casa e chissà dove dovrò andare a vivere. Dai, non ti preoccupare, loro sono ragionevoli. Ci vuole solo un attimo per digerire la notizia. Adesso vai a dormire e ne riparleremo domani. Va bene, ma non so se riuscirò a dormire. Buonanotte. Sono in una situazione orribile e Alex ancora non lo sa. Sono una pessima fidanzata. La mattina dopo? Oh, è già mattino. Non sono riuscita a dormire niente. E ho fatto degli incubi orribili. Oh, adesso devo andare in cucina a fare colazione. Oh, ma ho paura di andarci da sola. Tranquilla, Argentina. Vengo anch'io. Oh, Danny, grazie al cielo sei già sveglio. Andiamo. Dai, vedrai che durante la notte le acque si saranno calmate. Speriamo. Eccoci, siamo quasi arrivati. Vai te davanti. Buongiorno, ragazzi. Ben svegliati. Eh? Cosa? Dai, non abbiate paura. Vi abbiamo preparato una buonissima colazione. Sono confusa. Vabbè, dai. Andiamo. Certo, non rifiuto mica una colazione così. Come mai? Io non capisco. Pensavo fosse arrabbiati. Già, pensavo vi fosse calmati, ma... Cioè, mi fa strano. Sì, so che vi avremmo spaventati, ma... Capiteci, è stato scioccante. Sì, subito eravamo arrabbiati, soprattutto io. Però abbiamo parlato, ci siamo capiti, abbiamo capito che, insomma... Può capitare. Poi ormai non si può tornare indietro, non possiamo dare via il bambino. Sarebbe da crudeli. Oh, posso ottenerlo. Sì, e ti aiuteremo a crescerlo. Oh, grazie, siete i genitori migliori del mondo. Di nulla, ora facciamo colazione. Poi pensevamo di festeggiare un po', visto che... Insomma, oggi è festa e tu sei incinta. Potevamo invitare qui i tuoi amici. Eh, c'è quel piccolo particolare di Alex. Oh no. Allora vi va? Per un pranzo? Eh, beh, ecco... Sì, potrebbe, ma... Tranne... Cioè, Alex non può venire. Perché no? Lui è il padre del bambino, deve per forza venire. Sì, voglio congratularmi con lui. Dai, dillero, argentina. Cosa dovete dirci? Va bene, i miei amici sanno che sono incinta, ma Alex non lo sa. Cosa? Ma perché non gliel'hai detto? Lui era la prima persona a cui dirlo. E poi i tuoi amici, o vabbè, magari tutti insieme. Oh, e non è stato difficile. Cioè, è difficile. Lei pensa che Alex la lasci e scapperà e lei dovrà crescere il bambino da sola. Ma... ma cosa dici? Alex è un bravo ragazzo, lo conosciamo da anni. Dovresti sapere che non è quel tipo di persona. Sì, ma non lo so. Io non so come reagirei se fosse il contrario e la mia ragazza fosse incinta all'improvviso. Dai, dai. Oggi glielo dici e poi festeggiamo tutti insieme. Va bene. Danny, mi puoi accompagnare? Certo. Un po' dopo? Mamma mia, sono giudatissima. Ho paurissima. Tranquilla, adesso andiamo. Vai. In che senso vai? Io non posso venire a una conversazione tra voi. No, ti prego, non mi puoi lasciare da sola a paurissima. Va bene, ti accompagno fino lì e poi me ne devo andare. Sarà Alex a chiedermelo. Ma no, dai, vedrai che terrà il suo migliore amico. Argentina, sei arrivata. Oh, Danny, ciao. Che ci fai qui? Già, che ci faccio qui? Ah, io devo dirti una cosa importante. Danny, il supporto. Ma se è una cosa importante, insomma, sarà privata, no? Infatti, Argentina, vedrai, ce la farai. Io se vuoi aspetto qui fuori così se succedesse qualcosa. Ma non succederà. Io sarò lì. Va bene. Parlate pure. Di cosa si tratta, Argentina? Mi sembri molto agitata e... Cioè, venire con Danny? Oh, tu non capisci. È una cosa molto enorme. Ok, ora mi stai spaventando. Cosa mi devi dire? Ok, promettiti di non urlare, di non scappare, di non lasciarmi, di non dare di matto. Ehi, ehi, calma, non lo farò. Sono il tuo fidanzato fedele, mi dovresti conoscermi. Non sono cattivo. Non sono senza cuore. Va bene. Io non so perché, come, da quando, insomma, non so nulla. Io sono... Cosa? Forza, mi stai mettendo curiosità e ansia. Dimmelo. Incinta. Ah, ok. Bello scherzo oggi. È festa, sì. Volevi farmi questo scherzo. Danny ha contribuito. E ora è fuori che origlia. Beh, bello scherzo. Ma non ci sono cascato. Non è uno scherzo. Sono davvero incinta. E ho portato Danny perché ero in ansia. E lui è stato il primo a cui l'ho detto. E poi anche i miei amici lo sanno i miei genitori. Ok, argitina, basta. Lo scherzo è finito. Non è più divertente. Non è uno scherzo. Te lo giuro. Ti pare che farei uno scherzo del genere? Sei molto convincente. Ma non capisco. Ma... Dai, ma non può essere vero. Dai. Sarei molto più agitato. Ma... No, Nio, è vera verità. Continua. Stelline, l'episodio finisce qui. Iscrivetevi al canale. Lasciate like. Attivate la campanella. E se vi va, condividete il video. Insomma, ve lo aspettavate che Alex reagirebbe... Che avesse reagito così. E i genitori hanno fatto bene. Cioè, secondo me sì, dai. Sono stati gentili. E niente, non perdetevi il prossimo episodio per vedere come continuerà. E se vi va, seguitemi su Instagram e TikTok. Ciao!